Buongiorno, siamo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma con la dottoressa Carla Carlevaris. Dottoressa, buongiorno, grazie di essere con noi. Parliamo di un progetto importante, lei è responsabile della ludoteca qui all'ospedale, è quello che i bambini non dicono. Sicuramente il gioco per i bambini è uno strumento di crescita, è un percorso fondamentale, ma per un bambino malato probabilmente ancora di più. Come riuscite a modulare l'esperienza di malattia attraverso il gioco, anche a ricevere informazioni che possano aiutarvi a gestire e a curare meglio un bambino? Noi abbiamo creato questo spazio centralizzato in ospedale della ludoteca, che è proprio un contenitore per il bambino, un mediatore tra il bambino e le sue emozioni, tra il bambino e gli altri bambini, tra l'ospedale e il mondo esterno, perché accogliamo anche molte iniziative dall'esterno in modo da far sentire il bambino collegato all'ambiente da cui si sente escluso e che lascia fuori. Proponiamo al bambino tante attività di gioco che utilizzino un po' tutti gli strumenti ludici ed espressivi, in modo da andare incontro al bisogno espressivo di ciascun bambino, come lei diceva, proprio sulla oramai consolidata certezza che il gioco costituisca un momento fondamentale e non accessorio nella crescita del bambino. Sappiamo che serve a familiarizzare il bambino con esperienze spiacevoli, a esplorare ed elaborare il mondo interno e l'ambiente circostante, a esercitare competenza e controllo sulla realtà, a invertire i ruoli e a spostare nel gioco e a poter vivere degli aspetti compensatori. Il bambino nel gioco può essere il più forte, il più potente, il più ricco o si può mettere nei panni di... e allora noi sfruttiamo ovviamente in ospedale per poter aiutare il bambino a trasformare queste esperienze in un'esperienza di crescita e non soltanto in un'esperienza potenzialmente inquietante, traumatica, emotivamente pesante e riteniamo che sia fondamentale proprio in ospedale rinforzare tutti questi aspetti e proponiamo ai bambini una serie di attività che lo aiutino per esempio la funzione del gioco familiarizzarsi con gli oggetti e le esperienze che stanno per affrontare quindi ad esempio in mezzo a tanti materiali da pittura o da scultura mettiamo anche i materiali ospedalieri quindi li facciamo dipingere con la siringa senza ago piuttosto che fare un collage con la garza o costruire un burattino con la cuffietta in modo che quell'oggetto che poco dopo incontrerà in ospedale nel reparto ed è un oggetto appunto sconosciuto e quindi può sollevare nel bambino tante fantasie possa essere invece integrato in un'esperienza creativa e trasformativa per il bambino. lì facciamo fare il gioco del dottore inteso come gioco di drammatizzazione e di inversione di ruolo il bambino che cura il bambolotto, il bambino che cura gli altri bambini addirittura ci sono dei momenti in cui i bambini curano gli adulti, curano i medici e gli infermieri e qui tante cose vediamo, i medici si sorprendono della competenza dei bambini di quante cose sanno che non si penserebbe e di quanta precisione utilizzano in queste procedure nello stesso tempo ovviamente sdrammatizzano, esplorano e svolgono proprio a livello cerebrale un processo di assimilazione dell'esperienza. quindi sappiamo che nei momenti particolarmente scioccanti, stressanti anche il cervello tende a registrare tutto quello che avviene ma è difficile per la coscienza di rievocarlo, di ricordarlo e di trasformarlo o di lasciare che il funzionamento mentale continui il suo svolgimento e quindi dobbiamo approcciare il bambino, possiamo approcciare il bambino più facilmente attraverso tutto il grande regno del linguaggio non verbale attraverso cui il bambino può esprimersi ma in un modo anche protetto non è esposto, è un oggetto intermedio anche nella relazione con l'adulto abbiamo adottato ad esempio dei pupazzi di stoffa che i bambini possono, bianchi che i bambini possono personalizzare, costruire un personaggio, fare una carta d'identità raccontare qualche cosa di questo loro personaggio e abbiamo visto quanto è che possiamo approcciare attraverso questo dei bambini che di solito sono molto evitanti e tendono a non raccontarci nulla della loro esperienza il loro personaggio può raccontare quello che sta succedendo a loro e loro si sentono però più protetti Anche la possibilità in qualche modo che un ambiente non familiare diventi però meno traumatico, meno di distacco dalla loro quotidianità credo che possa aiutare e in questo il gioco sicuramente è il veicolo più diretto più immediato, magari un gioco che loro possono magari aver già fatto a casa La ludoteca è pensata proprio così, è uno dei pochi spazi non medicalizzati dell'ospedale centralizzate, è piena di colori, di giocattoli e di tutto quello che per il bambino è familiare funziona un pochino come un cammino in una casa e quindi come anche uno sportello d'ascolto nel senso che essendo uno spazio non medicalizzato è più facile che sia i bambini che i genitori accedano e portino anche le loro domande o il loro disagio senza dover fare il passaggio ulteriore della richiesta di un supporto psicologico più mirato che poi a volte è anche quello che noi possiamo rilevare in ludoteca e segnalare agli psicologi dell'ospedale Sicuramente questo permette anche forse, per un adulto si direbbe una compliance ma comunque la possibilità di essere più aderente a una terapia a sopportare meglio alcuni disagi in ospedale perché se rientrano in un percorso in cui c'è spazio anche per altro forse un bambino lo accetta meglio Guardi, anni fa abbiamo fatto dei questionarii proprio per rilevare il funzionamento insomma, misurare il senso dei nostri interventi e quindi sia ai bambini sia al personale medico che ai genitori e sono uscite fuori proprio questi aspetti che lei stava accennando I genitori ci hanno detto che da quando c'è la ludoteca i bambini, molti genitori ci hanno raccontato che riuscivano a parlare della loro malattia e delle loro assenze a scuola dovute ad ospedalizzazioni ricorrenti con i compagni e con le maestre, mentre prima era un argomento tabù quindi evidentemente c'era qualcosa che il bambino era riuscito a integrare meglio e anche qualcosa che poteva portare come una sua esperienza di una cosa speciale che era stata fatta anche in ospedale e il personale sanitario ci parlava proprio del fatto che i bambini si sottopongono più volentieri diciamo, tra virgolette, alle procedure sia perché vengono più volentieri in ospedale in quanto si collega anche ad un'immagine positiva sia perché si affrettano spesso per correre giù in ludoteca Dottoressa, in conclusione, quello che può essere forse la diversità fra un episodio acuto che si risolve in un unico ricovero e invece malattie croniche che sicuramente richiedono al bambino un percorso molto più lungo, anche lì come approcciate in maniera diversa per poter rendere quotidiano il ricovero di un bambino che magari negli anni torna molte volte? Guardi, la prima cosa di cui ci siamo accorti è che è un'esperienza molto soggettiva e quindi spesso dipende da talmente tante variabili la reazione che il bambino può avere all'ospedalizzazione o al rapporto con la malattia che anche a volte può essere particolarmente inquietante per un bambino qualche cosa che per noi adulti è soltanto una piccola cosa di passaggio però influisce il modo in cui i genitori filtrano l'esperienza per il bambino influisce l'età del bambino, influiscono esperienze precedenti, dirette o indirette e ci sono le capacità del bambino, le risorse del bambino, lo stile del bambino quindi ci sono tante variabili per cui quello che abbiamo imparato è che vanno un pochino ogni volta va ascoltato il bambino e visto che cos'è quell'esperienza per lui e com'è Bene, allora ringrazio moltissimo, buon lavoro Grazie